Io sono con un buteur, il goleador, il marco molto dei buti della teta. Sì, sì, il marco molto dei buti della teta. Non, ma tu non mi rispondi la questione, c'è tu che dovrai posare la questione. Tanti gol di testa. Come ha detto la signora, sicuramente sì, a volte...